Oltre 250 ragazzi saranno formati in 10.000 ore di corsi professionali e formativi che riporteranno nei prossimi due anni a essere inseriti nei settori trainanti dell'economia spezzina. Nautica, porto e logistica, turismo e commercio sociale sono i numeri emersi dal piano territoriale di formazione per lo sviluppo economico del territorio, un progetto condiviso con associazioni di categoria e aziende e che è stato presentato in comune stamani all'assessore regionale alla formazione Ilaria Cavo. La novità è il metodo, ha spiegato il sindaco Peracchini, prima uno studio che ha fatto emergere le esigenze delle imprese nei vari settori, poi la progettualità con il comune capofila. L'obiettivo è quello di strutturare proprio un piano territoriale che risponda alle esigenze delle imprese affinché possano sul territorio trovare le competenze per poter inserire persone che in qualche modo rispondano alle loro necessità. La formazione deve essere finanziata dalla regione attraverso il Fondo Sociale Europeo, si parla di circa due milioni e mezzo, tre milioni di euro che potrebbero arrivare sul territorio, dandoci la possibilità di utilizzare misure già attive oggi del Fondo Sociale Europeo e misure che verranno specificatamente attivate per la nostra città, per la nostra provincia. Un modello pilota, lo dicevamo, che potrà essere allargato anche ad altri territori oltre al comune della Spezia? Il comune della Spezia ha fatto un grande lavoro da capofila con un confronto con le associazioni di categoria, tutte, per portare che cosa? La mappa dei fabbisogni formativi di questo territorio nel medio periodo e per fare in modo che ci siano attivati gli strumenti di formazione necessari per andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro, che è quello che noi chiediamo fin dall'inizio. Avere un comune che ha presentato figure professionali necessarie in questa provincia sostanzialmente, con dei numeri abbinati, è qualcosa di molto importante e prezioso e diventa un metodo che poi di fatto è un modello. Il prossimo incontro sul piano che sarà ultimato a settembre è previsto a luglio con tutti i comuni della provincia. Mi fa molto piacere però per esempio che questa mattina mi abbia già contattato la neosindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, a cui vanno ovviamente tutti i complimenti ma anche l'in bocca al lupo per il lavoro che l'aspetta, dicendo so che è in corso questo tavolo e questo lavoro, mi piacerebbe portare le esigenze specifiche di Sarzana. Per cui anche un po' sull'onda di questo interessamento abbiamo chiesto come cronoprogramma che il prossimo incontro sia con tutti i comuni della provincia.